Musica E allora è stato un pomeriggio davvero speciale per noi di TGS, per noi grande famiglia del giornale di Sicilia con RGS. Laura Pausini è stata in questo studio, c'è stata una festa di ammiratori arrivati qui proprio in questo studio, rigorosamente scelti dal fan club, lo sottolineiamo perché avevamo ricevuto tantissime richieste per la partecipazione a questo speciale avvenimento. Ebbene è arrivata, Laura Pausini è stata accolta da tutti noi e soprattutto dai conduttori della trasmissione che è andata in onda in diretta alle 18.30, preceduta da 30 minuti di attesa per così dire, condotta da Salvo Larosa e da Marina Mistretta. Vediamo qualche istante prima di farvi sentire la sua diretta voce, ve le facciamo vedere qualche istante del suo arrivo e del pubblico che l'ha accolta con grandissimo affetto. Le repliche della trasmissione che è andata in onda oggi pomeriggio alle 21 su RTP, la nostra cugina TV a Messina alle 21.30 sulla nostra emittente e giovedì alle 17 su RTP, alle 18 su TGS. Ma vediamo un brano della trasmissione andata in onda oggi pomeriggio. La solitudine tra noi, la solitudine tra noi, loanche il coluso di attesa, nonostante ci fosse una leggera latenza tra quello che noi sentivamo e quello che andava in onda, è sempre così. Loro erano perfetti, guarda. Intunatissimi. Ecco lì. Sì tu di me. E beh dai, te dai. Benza, piccinizza. Piccinizza, Benza, con tutto il cuore te lo dico. Con tutto il cuore. Ma come mi piace questa realtà.